Alessandra Fissolo, dopo tanti anni lascia il ruolo di presidente. Che cosa si porta dietro? Beh, mi porto dietro una delle avventure più straordinarie che potessi vivere perché per me sono stati 11 anni veramente intensi dove ho provato milioni di emozioni continuamente. Ho pianto, ho reso, mi sono arrabbiata, ho conosciuto delle persone, ho fatto nuove amicizie, ne ho perso delle altre, ho sofferto, mi sono sacrificato, ho lavorato tante ore al giorno per cercare di raggiungere degli obiettivi. Alcuni li abbiamo raggiunti, abbiamo festeggiato, altri non li abbiamo raggiunti, abbiamo pianto, però è stato bellissimo, straordinario, un viaggio incredibile che ho avuto la fortuna di percorrere. Il suo è un abbandono, tra virgolette, a livello istituzionale, perché poi fondamentalmente il cuore rimane qui. Vabbè, il cuore resterà per sempre qui, quello non se ne andrà mai. Sicuramente ti ferò sempre a Mondovì, sicuramente se sarà necessario darò una mano dove serve. Il cuore resta, quello non se ne andrà mai. Lascia ad un nuovo presidente, persona competente, persona conosciuta e che ama questa città e anche questa società a questo punto. Assolutamente sì, Mario Bovetti si è appassionato della pallavolo, ha iniziato subito con grande entusiasmo e sono felice perché io credo che con lui nel ruolo di presidente e a Raverne nel ruolo di direttore generale noi facciamo un ulteriore passo avanti molto importante di crescita per questa società sportiva. Società che comunque rimane con tante ambizioni perché questo è un punto di partenza, non di arrivo assolutamente, a che cosa potete aspirare a questo punto? Io credo che con la passione della pallavolo che esiste veramente da decenni, con la passione di tante persone che come me ci hanno tanto creduto negli anni passati, continuano a crederci anche per il futuro e con la voglia di fare possiamo aspirare a traguardi davvero importanti. E a proposito di tanta passione, voi avete anche una tifoseria competente, una tifoseria soprattutto molto molto presente, lasciali o vuole dare un saluto e anche per loro una promessa. Ma certo, gli Ultraspuma che sono sempre stati carinissimi, sempre presenti, presenti a tutte le trasferte di tutte le stagioni sportive della nostra Serie A e questo è veramente un vanto, una fortuna per noi. Quindi grazie davvero agli Ultraspuma e spero che continuino a seguire ancora a lungo questa società sportiva e andrò magari in mezzo a loro anche ogni tanto a fare il tifo.